La scuola media di Sansepolcro Buonarroti Pacioli chiusa fino a lunedì 4 dicembre. Il motivo è il blocco dell'impianto di riscaldamento che da giorni costringeva i ragazzi a rimanere in classe con i giubbotti. Nelle scorse ore c'è stato un incontro tra i genitori e l'amministrazione comunale e così si è deciso per la chiusura temporanea con un'ordinanza del sindaco. Sono comprese anche le classi ubicate nei moduli, ha scritto la preside alle famiglie, fatto salvo per la segreteria didattica, amministrativa e la dirigenza. È stato un tavolo di confronto, raccontano i genitori, che nonostante qualche immancabile e comprensibile discussione ha portato alle decisioni. Sono stati inoltre programmati nei prossimi giorni dei lavori urgenti. Il primo verrà effettuato immediatamente nei giorni di chiusura della scuola. Gli altri a seguire prevedono l'installazione di 10 apparecchiature monosplit con linee indipendenti esterne. Entro il primo dicembre i genitori sapranno se il primo intervento sarà sufficiente o ne servirà un altro per far ripartire l'impianto. Ci auguriamo, concludono i genitori, che tutto vada per il meglio che lunedì 4 dicembre la scuola possa accogliere i ragazzi in un clima più accogliente.